Quando inizia la nostra esperienza duale come esseri umani? Questa è una bellissima domanda di Sara. È tutto molto semplice. Allora, l'anima è uno. Veniamo concepiti, abbiamo un nuovo corpo, una nuova esperienza che ci viene regalata e il nostro compito è sperimentare questa nuova esperienza. Dopo il concepimento chi conosciamo? La mamma. Conosciamo la figura della mamma. E dopo che stiamo con la mamma per nove mesi, dopo un po' conosciamo anche un'altra figura che è quella del papà. E a quel punto ci confrontiamo con due figure, il papà e la mamma. Iniziamo a conoscere l'energia femminile e l'energia maschile. Dopodiché iniziamo a conoscere il giorno e la notte, la fame, la sete, la sazietà, il giorno e la notte, la luce e il buio. Inizia a essere tutto duale. Quindi questa è un'esperienza che siamo chiamati a vivere. Siamo chiamati a goderci questa esperienza, a sperimentarla. E quindi molto semplicemente inizia tutto lì, in modo molto facile. E papà e la mamma. Ecco come inizia la nostra esperienza duale. E durante questo viaggio siamo chiamati anche a ricordarci qual è la nostra vera natura, cioè l'uno. E quindi abbiamo tutti i sensi che ci dicono che tutto è duale. Siamo noi e gli altri. Io e le piante. Io e la natura. Come vedi, io e il sole. Io e la luna. Io e le montagne. Quando in realtà siamo solo uno. E questo è qualche cosa che si sperimenta non attraverso i sensi, ma attraverso la connessione con il cuore, attraverso la connessione con l'anima. Ed è un processo di ricordare, ricordarci chi siamo veramente. Per ricordarci chi siamo veramente lo scopo è quello di ritornare dentro. Perché? Perché quando guardiamo fuori tutto ci dice il contrario di ciò che in realtà è. Quindi, e c'è una cosa bellissima che ti insegnano i maestri, il maestro in realtà è colui che ti tira una martellata sulla testa tutte le volte che guardi fuori. Perché il maestro è consapevole del fatto che tutte le volte che guardi fuori in realtà sperimenti la dualità. Ma per sperimentare l'uno devi guardarti dentro, guardarti tra virgolette. Perché? Perché l'osservazione avviene fuori. Ok? Quindi abbiamo gli occhi, se tu ci pensi, che guardano fuori. Le orecchie che ascoltano fuori. Tutti i sensi, il tatto, il gusto che arriva da fuori. Anche lo stesso processo della mente è una rielaborazione di cose, di pensieri, di credenze che arrivano da fuori. Quindi lo scopo per riconnettersi con la nostra vera natura dell'uno è riconnettersi dentro, è guardare tra virgolette dentro, è sentire dentro, è utilizzare quel senso che non appartiene ai cinque sensi che ci permette di unirci dentro, collegarci dentro. E lì riscopri la tua vera natura. Quindi questo viaggio meraviglioso da uno a duale per poi riscoprire nuovamente che siamo uno. Un po' un gioco, è un po' un puzzle la vita. È questo che dobbiamo cercare di ricomprendere la natura delle cose per quelle che sono veramente. Quindi è un gioco, la vita è un gioco e va sperimentata, vista a volte con delle cadute, a volte comprendiamo con la sofferenza, a volte con la gioia e tutte queste esperienze nella vita ci servono proprio a comprendere la nostra vera natura. Sia la sofferenza ci aiuta a comprendere, sia la gioia ci aiuta a comprendere. Tante persone sentirai che ti diranno che durante le loro fasi di sofferenza in realtà hanno compreso tante cose. Perché? Perché nel momento della sofferenza quello che fanno le persone è che ritornano dentro. Quindi il processo della sofferenza a volte è necessario nella nostra evoluzione spirituale. Non è una passeggiata di salute a livello materiale, nel senso che la sofferenza nel mondo della dualità non è bello, non è ciò che cercano ovviamente le persone. Tuttavia l'universo, la tua anima, a volte ti spinge anche in quella direzione affinché tu possa comprendere e renderti conto, diventare aware, diventare consapevole della tua vera natura. Vedi, l'universo, la natura ha diverse strade per farti comprendere il messaggio, ti mette tanti indizi sul cammino e nell'esperienza duale nessuno sceglie mai il cammino, quello difficile, quello della sofferenza. Quindi a volte l'anima ti porta in quella direzione affinché, nella direzione della sofferenza, affinché tu possa comprendere. Perché quando sei nella gioia sei molto estrovertito, sei molto verso fuori e quando sei nel lato della sofferenza sei più introvertito, ti guardi più dentro e quindi ecco perché sentirai tante persone che ti dicono che hanno avuto dei grandi momenti di comprensione della vera natura delle cose proprio a seguito della sofferenza. Bene, con questo è tutto, ti saluto, ti mando un grande abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo audio o al prossimo post. Ciao!